Credo di aver confermato parola per parola quello che ho detto al Corriere di ieri, se lo andate a l'ileggere, ed è quello che pensiamo. Ma quindi all'Europea farete una lista insieme? No, quindi all'Europea, quando ci sarà da decidere sull'Europea, faremo, parleremo con tutti, a patto che, ovviamente, quelli con cui parliamo non abbiano avuto comportamenti ostili. Lo decideremo in autonomia quando ci saranno le Europee. Ma l'avete letto il testo? Eh, cosa pensi del documento di Italia Viva? Non l'ho visto, è arrivato? Eh no, dicono che la lista deve essere unica, il gruppo parlamentare rimarrà compatto solo se ci sarà una lista unica. Ma come faccio a commentare un documento che non ho visto? Sto andando a fare una riunione con loro e mi faccio dire da loro quello che vogliono fare. Si aspetta un clima collaborativo? Ma io spero di sì, tanto voglio dire che quello che dovevamo litigare abbiamo litigato. Ma le ragazze continuate a darvele? No, ma io spero proprio di no, guardate, scusate, io devo andare. Ma si può ricostruire? Tra le varie condizioni che si devono anche ricreare dei rapporti di fiducia. E se no come la fai una lista all'Europea? È possibile con Renzi ricreare? Ma tutto nella vita è tutto possibile. Adesso a me quello che interessa è capire se quello che abbiamo espresso è una cosa che Italia Viva condivide o meno. Punto. Stiamo andando a una riunione, è inutile dire altre cose.